La trattativa è ancora agli albori, ma ciò a cui mira è già chiaro. Interdire anche alle auto quei chilometri di Litorania a due passi da Torre Sant'Emiliano e che arrivano fino al borgo di Portobadisco. In verità, almeno in teoria, su quel segmento esiste già un divieto di circolazione di mezzi pesanti, sebbene ci passi chiunque da sempre. Pullman, camper, autobotti, camion. I cartelli che fissano il divieto puntualmente ignorati sono stati voluti proprio dalla provincia di Lecce qualche anno fa. Esigenza dettata dalla necessità di evitare che il traffico veicolare possa far vibrare pareti e soffitti delle grotte, sgretolando le già precarie pitture parietali. I cunicoli di quella che è stata definita la Cappella Sistina del Neolitico di tutta Europa corrono proprio al di sotto del tratto di provinciale prossimo all'insenatura di Badisco. Per proteggerli, però, servirebbe, appunto, creare un percorso alternativo. E l'impresa non è semplice. Primo perché non parebbe esserci già una strada esistente semplicemente da risistemare e adattare a nuova arteria provinciale. secondo perché Palazzo dei Celestini, già solo per le opere stradali cantierizzate, sta raschiando il fondo del barile e non ha soldi. Non possiamo fare miracoli al momento l'opera non è ancora tra quelle prossime lavori che usa Massimo Coma, assessore all'edilizia stradale. È sempre lui a far sapere che, però, al momento, i suoi uffici di riferimento non sono stati ancora interessati. Nelle prossime ore, Como incontrerà Stefano Zampino, dirigente del servizio strade. Il punto dovrà essere fatto anche su questo, in parallelo con un altro cantiere chiave, quello relativo alla statale Maglia Otranto, su cui sono arrivate le rassicurazioni dell'ANAS. Il primo svincolo dovrebbe riaprire entro il 15 maggio.